I studenti si possono confrontare con un'icona e con un pezzo storico del design italiano come lo spazzolino di TauMarin che è estremamente interessante come prodotto di design. Il design è una piattaforma che ci serve per capire il mondo, per fare nuovi progetti, per stimolare una qualità di vita migliore per tutti. Per cui ringrazio tutte le persone che stanno collaborando e che mi stanno permettendo di vivere anche personalmente un'ultima esperienza. Ringrazio ovviamente la TauMarin e l'OIED che ci permettono di divertirci e di imparare tante cose sempre. Un bellissimo connubio tra un'azienda così importante e leader nel suo settore è una scuola voltata al design. Per i ragazzi sicuramente è un'esperienza molto positiva, già io che sono uno dei supervisori mi rendo conto di quanto è positivo per loro questo tipo di rapporto, di feedback diretto che hanno con un'azienda così importante che gli apre anche la possibilità appunto di approfondire quelli che sono progetti e vederli poi possibilmente realizzati magari, visto che nella fase finale appunto ci sarà una scelta proprio dell'amore più valido da parte dei ragazzi. Grazie a tutti!